commemora nel giardino pubblico una stessa targa commemora un martire fascista e un martire comunista uccisi nello stesso quartiere un cardinale e un ministro sono intervenuti hanno battuto la gran cassa dell'accettazione e anche il recordo dei presenti perché commento perché il cardinale e il ministro hanno ubbidito alla legge che ci spinge incontro ad un sentire più ampio in modo tale che quando nel corso delle vite gireremo l'angolo e ci scontreremo di nuovo con la legge essa ci riconoscerà e noi la riconosceremo e saremo sempre più un tutt'uno